Gestivo un bed and breakfast sulle splendide colline di Monopoli, ma più che all'attività turistica, era interessato alla ben più lucrosa attività di puscia. E' quanto hanno scoperto i carabinieri del nucleo operativo del capoluogo che nel corso di un'operazione antidroga hanno tratto in arresto un 36enne originario del posto incensurato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le manette sono scattate a seguito di un lungo monitoraggio della struttura ricettiva da parte dei militari, ad attirare la loro attenzione un insolito via vai di ragazzi che ha finito per insospettire gli uomini dell'arma che, dopo giorni di appostamenti, sono entrati in azione. Fatte eruzione nel BNB si sono trovati di fronte al 36enne visibilmente nervoso per la loro presenza. E quello, che sino a quel momento era solo un sospetto, si è trasformato in certezza quando è cominciata la perquisizione della struttura, eseguita anche con l'ausilio degli unitanti droga del nucleo cinofili di Modugno. Nel bed and breakfast i militari hanno rinvenuto infatti circa mezzo chilogrammo di hashish in parte già suddiviso in dosi e pronto per essere spacciato. Assieme allo stupefacente è stato trovato anche un bilancino di precisione, materiale utile al confezionamento della droga e oltre 8.000 euro in contanti occultati in un nascondiglio ricavato in una vecchia confezione di liquore. Scattato l'arresto, l'uomo si trova adesso agli domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Grazie. Grazie.